La pandemia sicuramente ha aperto un mondo diverso, un mondo social anche a quelle persone che erano un po' difficoltose all'utilizzo di questi mezzi tecnologici. Sindaco Catani, a Picciano avete avviato un corso per avvicinare anche a scoprire quali sono le competenze per usarle ma soprattutto quali potrebbero essere i rischi nell'usarla. Vorrei ringraziare Mario Bisceglie, il signore che ha organizzato questo corso a Picciano. Vedo che la cittadinanza ha risposto in tanti, ci sono circa 30 iscritti, tutte persone dai 60-65 in sopra e vedo che hanno voglia di imparare, di capire. Io sono contento per quello che stiamo facendo per queste persone anziane perché mentre i giovani possono scendere a Pescara lungo la costa e passare le serate per le persone anziane il social oggi è diventato importante, hanno pure modo di tenere impegnata la mente. La possibilità di avvicinare anche queste persone a quelli che sono i familiari che vivono all'estero o anche amici che non incontrano da tanto tempo? Sì, infatti l'altro giorno parlavo proprio con un signore di Picciano che ha circa 80 anni e mi diceva lui ha una sorella in Argentina che ha qualche anno in più di lui e lei è partita che aveva 17 anni e non si sono più visti. E con Whatsapp, con Messenger, con Facebook riescono a fare una videochiamata una volta alla settimana e per lui è cambiato perché dice guarda io non vedevo più mia sorella da quando eravamo piccolini, oggi è felice di questa cosa. Chiudo, tra le problematiche anche quelle di non cadere nelle fake news, si sa che a proprio a quell'età è anche facile incappare a queste cose. Beh, certo, infatti il nostro organizzatore la prima cosa che ogni giorno gli ripete sempre di stare attenti e che se ne deve fare un uso attento. Per oggi sappiamo pure che nelle famiglie ci stanno i nipoti, i figli che sono diventati, specialmente i ragazzi, sono diventati dei tecnici. Certo, non si possono avventurare in situazioni poco piacevoli. Certo, non si possono avventurare in situazioni più semplici, 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 semplici